buongiorno a tutti siamo alla terza ricetta della rubrica dei cereali e oggi parliamo del mais oggi faremo una ricetta estiva perfetta per un aperitivo o un antifasto sfizioso faremo delle palline con la polenta e dentro ci metteremo formaggio ed erbe aromatiche andiamo a vedere al dopo grazie a tutti 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 grazie a tutti